La mia nomination sono Francesco Ferrari, Francesco Rinaldi, e poi ci proviamo, ci proviamo, io sono sicuro che ce la facciamo, ne sono sicuro, sicuro a 24 ore di tempo, quindi lui domani sarà accompagnato da amici, parenti, sarà qua. Nominiamo il sindaco di Giulianova, Francesco Mastromauro! La mia nomination è sempre un sacco di docce fredde e finalmente facciamo una doccia fredda al fin di bene. Io nomino l'ex Assessore Archimede Forcellese, che siccome di doccia fredda ne ha già preso una forte dal suo sindaco, non essendo stato rinominato, lo nomino a questa doccia fredda, ti farà sicuramente bene. Nomino il nostro cameraman, Valentino Ferrante, presidente della Croce Rossa Provinciale. E nomino il nostro pediatra, Roberto Ciccocelli. E allora io nomino, anzi, rinomino, la disposizione di TV Margherita Ambrosario, la nostra amica Letizia Ricci e la nostra amica da casa Angela Barco per Cittadinanza OILUS. Grazie a tutti. Piemonte, pardon. E poi nomino la mia amica e collega Asia Giorgi. Applauso, applauso a tutti. Grazie. 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 Manuela. Manuela. Grazie per la visione!